Allora, Mastro Lorenzino, questo più che altro è un saluto, perché ho appena mangiato Aya Panzachina, mi sento dovuto fare lo spray che mi mancava usciato, questa canzone è veloce, è ritmica, molto ritmica e veloce, io non tengo il ritmo così veloce, non ho fiato, non ho voce, quindi farò abbastanza cagare, diciamo. Però faccio due strofine, giusto perché te le avevo promesse un D, e le facciamo queste due strofine in maniera un po' schifosetta, ma le facciamo. Allora, partiamo da tutte le ragazze, va. Te le ragazze, cocco sono stato, fanno l'amore, sono evitato, mangio frittura, niente verdura, Parlo sei lingue, ne imparo ancora, lo cellulare non mi serve a niente, bevo e mi sveglio tranquillamente, bevo e mi sveglio tranquillamente. Ciao Lorenzo, ciao Ugo, questo ti mando un bacio, mando un bacio a Lauretta e alla Xabi Alonza, chiaramente. Ciao a tutti!